Trascorreranno un Natale sicuramente più sereno i dipendenti di un'azienda di Spinazzola che alla faccia della crisi hanno ricevuto oltre alla tredicesima anche un altro stipendio. La storia insomma di un piccolo miracolo italiano che vi raccontiamo in questo servizio. Chiamatelo pure premio produttività, lo meritano tutto dice l'amministratore unico, lavorano con entusiasmo i risultati si vedono e così a dicembre oltre alla tredicesima per i dipendenti è arrivato uno stipendio in più. In tempi di crisi e aziende che chiudono è senz'altro una notizia. Siamo nel piccolo centro di Spinazzola, officine meccaniche murgesi. Qui dentro si realizzano tra le altre impianti di automazione per la produzione di pali dell'illuminazione e barriere stradali. Le commesse non mancano essenzialmente dall'estero, l'ultima dalla Siberia. Un'azienda che è cresciuta in modo notevole, nel giro di 15 anni siamo su tutti i mercati mondiali. L'amministratore che è anche sindaco del piccolo paesino della Murge è convinto che fare gruppo aiuta era un impegno presso con i soci, la promessa è stata mantenuta. Abbiamo avuto la soddisfazione di vedere gioire delle famiglie e di rivedere l'azienda come la propria famiglia. Qual è il segreto di questa azienda? Il segreto di questa azienda è il mercato e aver scelto di stare fuori dall'Italia già 15 anni fa, avere un prodotto innovativo, aver investito molto in innovazione e tecnologia e avere dei giovani, lo devo dire, che hanno l'entusiasmo di lavorare. Soddisfatti i dipendenti in tutto 42, la maggior parte giovanissimi e del posto. E come si sta con uno stipendio in più sotto Natale? Uno stipendio in più significa fare un regalo in più ai nostri figli e ai nostri parenti. Il presidente del concilio, Mario Monti... Il presidente del concilio, Mario Monti...